È ora di pranzo e i piccoli sorveglianti si misurano con le nuove mansioni. Il refettorio oggi è sotto la loro responsabilità. Signori, oggi abbiamo casoncelli con la salvia. Guarda quanti posti si mettono. Silenzio! Ah, estetico. Madonna, Gabriele ha un sacco fomentato per fare il sorvegliante. Pum, è fomentatissimo. Secondo me non è un lavoro facile per il sorvegliante perché siamo una mandia di adolescenti imbufaliti e affamati. Signor sorvegliante, pane che se ne è dimenticati. Signor sorvegliante, sarebbe un po' di pasta. Signor sorvegliante, c'è un po' di pancetta che me ne ha messa a zero. A chi altro vuole un po' di pancetta? Dov'è Capri? Signor sorvegliante, possiamo passare con formaggio. Servire un refettorio così esigente è davvero impegnativo per i piccoli sorveglianti. I piccoli sorveglianti con me per cortesia. Ma non è ancora finita. Bene, piccoli sorveglianti, adesso dovete fare il lavoro che noi facciamo di solito, cioè dovete ricopiare a macchina tutti i temi. Zipide? Sì. La scuola che vorrei sarebbe intrigante. Oddio, qui ci mettiamo a... dobbiamo fare tutti questi. Facciamo come Totò. Abundandis in abundandum. Vai, abbondiamo. Pum. Moschi, virgola, punte virgola, due punti, punto esclamativo, percentuale e uguale. E' uscito tutto un misto, non so. Come dura la vita da sorveglianti? Verrebbe voglia di mettere un punto e a capo. Ma gli esami difficili erano e difficili restano. Grazie. 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 Grazie.